Grazie Ottimo, non me lo ricordavo più Sì, è la giornata uscire Poter venire fino qua Prendere il pranzo E andare a casa è già qualcosa Ma oggi è il primo giorno della fase 2 Quindi riaprono tutte le attività di ristorazione Bar, pizzeria e quant'altro Noi purtroppo partiamo un po' con degli orari ridotti Non sapendo ancora che tipo di richiesta ci sarà Di lavorare con guanti, mascherine, prodotti igienizzanti e quant'altro Uguale per i clienti, tutti i clienti non possono entrare senza mascherina e senza guanti Ci sono delle normative esposte dove devono mantenere la distanza di sicurezza Non devono fare assemblamento all'esterno E noi personalmente abbiamo una persona che garantisce queste distanze Vi suoi visioni Che ci sono? Qui è oggi? Qui è possibile? Tocam Bobesi Chi è stata basta? La zia Noi sai tu non sei Vuoi rientrare? No Scar recommending Dio Qui credono Purtroppo possiamo fare soltanto l'asporto e per quanto riguarda quello che sarà è tutto un punto interrogativo, perché ovviamente non ci sarà l'ambiente da bar che era un ambiente accogliente dove la gente si ritrovava.